Il professore Craig è uno storico della scienza e professore merito a Niels Bohr Institute di Copenaghen, qui a Palermo, dove ha appena terminato l'intervento al convegno L'uomo e il cosmo nella storia, paradigmi, miti e simboli. Professore, ha parlato di universo ciclico, alla luce dei modelli cosmologici attuali. Come dobbiamo intenderlo, questo cosmo ciclico alternato a creazione e distruzione o a periodico? Non credo in un cosmo ciclico, in quanto il modello migliore, il cosiddetto modello cosmologico standard, ci dice che l'universo potrebbe espandersi per sempre, questo a causa della materia oscura che è responsabile dell'espansione accelerata dell'universo. Si tratta di un modello molto convincente, ovviamente potrebbe essere sbagliato, ma è sicuramente il migliore che abbiamo, secondo cui non ci sarà mai una contrazione dell'universo. Quali nuove sfide dovranno affrontare, secondo lei, teologia e società alla luce dei progressi scientifici futuri? Questa è una domanda molto complessa. In ambito teologico e scientifico, e in particolare per quanto concerne teologia e cosmologia, è fondamentale capire che si tratta di due cose diverse. Sostengono due visioni del mondo differenti, eppure le raffigurazioni che ne risultano non sono necessariamente in contraddizione l'una con l'altra. Sono convinto che non v'è alcuna contraddizione tra l'immagine restituita dalla teologia cristiana e quella fornita dalla nostra opera scientifica. Sono totalmente diverse, eppure non in contraddizione, per cui l'una non esclude l'altra. Abbiamo scoperto, abbiamo rilevato bosone di Higgs, abbiamo rilevato onde gravitazionali, abbiamo fotografato anche un buco nero. Prendo in pressito le parole del titolo del libro di Hawking, l'inizio del tempo e la fine della fisica, per chiederle se mai una teoria cosmologica potrà spiegare l'universo e quindi rappresentare la fine della fisica teorica. Si tratta in realtà di due cose molto diverse. La fine della fisica o la fine della scienza rappresentano un tema di per sé, mentre definire una teoria completa o definitiva del tutto è proprio un'altra questione. Sebbene Stephen Hawking abbia affermato quelle cose negli anni Ottanta, successivamente le ritrattò. Ora Stephen Hawking non è più tra noi. Ad ogni modo, la maggior parte dei fisici e degli scienziati in genere sostengono che la scienza non avrà mai fine. Certo, alcuni affermano che riusciremo a formulare una teoria del tutto, ma si tratta di speculazioni prive di fondamento. Si tratta di speculazioni metafisiche che non trovano cittadinanza nel mondo della scienza. Abbiamo parlato di rivoluzioni scientifiche. A quando la prossima rivoluzione scientifica, secondo lei, professor Craig? Ovviamente è una domanda a cui è impossibile rispondere. La domanda presuppone il fatto che accada veramente una nuova rivoluzione scientifica. In quanto storico, io ho forti dubbi al riguardo. Dal mio punto di vista, penso ci sia stata una sola rivoluzione scientifica degna di tal nome, avvenuta nel XVII secolo ad opera di Galileo e Newton. Da allora, la scienza si è evoluta in modo uniforme e alquanto conservativo. Pertanto, non credo ci sarà una seconda rivoluzione di quel genere, quantomeno non in senso stretto. Grazie, grazie, professore. Grazie, grazie.